Polemiche in rete sullo sano Veneto, in particolare sull'acquedotto e sui costi di alcuni lavori che dovevano essere effettuati, costi che sarebbero lievitati, una vicenda che era già stata protagonista della campagna elettorale. Prima delle elezioni noi abbiamo avuto un preventivo da Etra, che è l'ente gestore per conto del Consiglio di Bacino, per il restauro in restituzione della torre dell'acquedotto, quella che è in piazza, perché non serve più. L'amministrazione infatti ha spostato tutti i pozzi ed essendo ora la torre svuotata dall'acqua, non ha più una funzione pratica per il comune. In un primo momento il restauro costava 80 mila euro perché loro avevano fatto una verifica solo sulla tinteggiatura, rassicurandoci che non c'erano altri problemi. Una volta montati i ponteggi in palcature e saliti all'ultimo anello, però gli uomini dell'impresa si sono resi conto che invece c'erano problemi alla struttura e così, bloccati i lavori, da 80 mila euro il preventivo è salito sopra i 200 mila, il limite entro il quale l'autorità di Bacino di Etra può finanziare i lavori di restauro. Quindi il Consiglio di Bacino arriverebbe a quella cifra. La cifra rimanente di 70 mila euro dovrebbe metterla al comune, ma qua ci fermiamo perché sono in corso delle trattative col Consiglio di Bacino in virtù degli accordi che erano stati fatti quando avevamo ceduto le linee idrauliche e anche l'acquedotto. Quindi in questo momento siamo un po' fermi, stiamo discutendo per cercare la soluzione migliore.